Dal libro di Mormon, un altro testamento di Gesù Cristo, 1 Nefi 22 E ora venne che dopo che io Nefi ebbi letto queste cose che erano incise sulle tavole di bronzo, i miei fratelli vennero da me e mi dissero, cosa significano queste cose che hai letto? Ecco, si debbono intendere riferite a cose che sono spirituali, che avverranno secondo lo spirito e non secondo la carne. E io Nefi, dissi loro, ecco, esse furono manifestate al profeta dalla voce dello spirito, poiché mediante lo spirito sono rese note ai profeti tutte le cose che accadranno ai figlioli degli uomini secondo la carne. Pertanto le cose di cui io ho letto sono cose che si riferiscono a cose sia temporali che spirituali, poiché è evidente che il casato Israele, prima o poi, sarà disperso su tutta la faccia della terra e anche tra tutte le nazioni. Ed ecco, ve ne sono molti che sono già perduti secondo la conoscenza di coloro che sono a Gerusalemme. Sì, la maggior parte di tutte le tribù sono state condotte via e sono disperse qua e là sulle isole del mare e dove siano nessuno di noi lo sa, sappiamo soltanto che sono state condotte via. E da quando sono state condotte via, queste cose sono state protetizzate a loro riguardo e anche a riguardo di tutti coloro che d'ora in poi saranno dispersi e confusi a causa del Santo Israele, poiché essi induiranno il loro cuore contro di Lui. Pertanto saranno dispersi tra tutte le nazioni e saranno odiati da tutti gli uomini. Non di meno, dopo che essi saranno stati allevati da gentili e il Signore avrà alzato la sua mano sui gentili e li avrà innalzati come uno stendardo e i loro figlioli saranno stati portati fra le loro braccia e i loro figlioli saranno stati portati sulle loro spalle, ecco, queste cose di cui si parla sono temporali, poiché tali sono le alleanze del Signore con i nostri padri e si riferiscono a noi in giorni a venire e anche a tutti i nostri fratelli che sono del casato Israele. E significa che verrà il tempo in cui, dopo che tutto il casato Israele sarà stato disperso e confuso, il Signore Dio farà sorgere un potente nazione fra i gentili, sì, proprio sulla faccia di questa terra, e da loro la nostra posterità sarà dispersa. E dopo che la nostra posterità sarà dispersa, il Signore Dio procederà a compiere un'opera meravigliosa fra i gentili che sarà di grande valore per la nostra posterità. Pertanto, cioè paragonato all'essere nutriti dai gentili e portati in braccio e sulle spalle, e sarà pure di valore per i gentili e non solo per i gentili ma per tutto il casato Israele, fino a rendere note le alleanze del Padre del Cielo con Abramo che dicono «Nella tua posterità saranno benedette tutte le stirpi della terra». E io vorrei, fratelli miei, che sapreste che tutte le stirpi della terra non possono essere benedette a meno che egli metta a nudo il suo braccio agli occhi delle nazioni. Pertanto, il Signore Dio procederà a mettere a nudo il suo braccio agli occhi tutte le nazioni, facendo avverare le sue alleanze e il suo Vangelo per quelli che sono del casato Israele. Pertanto, egli li porterà di nuovo fuori di schiavitù, e essi saranno radunati nelle terre della loro eredità, e saranno portati fuori dall'oscurità e fuori dalle tenebre, ed essi sapranno che il Signore è il loro Salvatore, è il loro Redentore, il potente di Israele. E il sangue di quella chiesa, grande e abominevole, che è la prostituta di tutta la terra, ricadrà sulle loro teste, poiché si faranno guerra fra loro, e la spada che hanno in mano cadrà sulla loro propria testa, e si inebbriranno del loro proprio sangue. E tutte le nazioni che scenderanno in guerra contro i te, o casato Israele, saranno rivolte l'una contro l'altra, e cadranno nella fossa che essa avevano scavato per insidiare il popolo del Signore. E tutti coloro che combattono contro Sion saranno distrutti. E quella grande prostituta che ha pervertito le diritte vie del Signore, sì, quella chiesa grande e abominevole, crollerà nella polvere e grande sarà la sua rovina. Poiché ecco, dice il profeta, viene presso il tempo in cui Satana non avrà più potere sul cuore dei figlioli e dei uomini, poiché viene presso il giorno in cui tutti i supervi e gli operatori di iniquità saranno come stoppia, e viene il giorno in cui devono essere bruciati. Poiché viene presso il tempo in cui la pienezza dell'ira di Dio sarà riversata su tutti i figlioli e dei uomini, poiché Egli non permetterà che norbaggi distruggano i giusti. Pertanto Egli preserverà i giusti mediante il suo potere, anche se accadrà che debba avvenire la pienezza della sua ira, e i giusti debbono essere perseverati. Preservati si infino alla distruzione dei loro nemici col fuoco. Pertanto i giusti non debbono temere, poiché, così dice il profeta, essi saranno salvati anche se dovessero essere col fuoco. Ecco, fratelli miei, io vi dico che queste cose debbono venire fra breve, sì, debbono persino venire il sangue, il fuoco e il vapore di fumo, ed è necessario che ciò avvenga sulla faccia di questa terra, e ciò viene agli uomini secondo la carne, se accadrà che induiranno il loro cuore contro il Santo Israele. Poiché, ecco, i giusti non periranno, poiché deve certamente venire il tempo in cui tutti coloro che combattono contro Sion saranno riusciti, e il Signore preparerà sicuramente una via per il suo popolo, per adempiere le parole di Mosè, che egli pronunciò dicendo Il Signore vostro Dio vi susciterà un profeta simile a me. Ascoltatelo in tutto, qualsiasi cosa egli vi dirà, e avverrà che tutti coloro che non daranno ascolto a quel profeta saranno reciti di fra mezzo al popolo. Ed ora, io, Nefi, vi dichiaro che questo profeta di cui parlò Mosè era il Santo Israele, pertanto egli si acciterà il giudizio in rettitudine, e i giusti non debbono temere, poiché sono quelli che non saranno confusi. Ma è il regno del diavolo che sarà edificato tra figlioli di uomini, il regno che è estabito fra coloro che sono nella carne. Poiché verrà presto il tempo in cui tutte le chiese che sono edificate per ottenere guadagno, tutte quelle che sono edificate per ottenere potere sulla carne, quelle che sono edificate per diventare popolari agli occhi del mondo, e quelle che cercano le cupiscenze della carne e le cose del mondo e di compiere ogni sorta di iniquità, sì, infine, tutte quelle che appartengono al regno del diavolo sono esse che debbono temere, tremare e rabbrividire, sono esse quelle che debbono essere abbassate nella povere, sono esse quelle che debbono essere consumate come stoppia e ciò è a seconda delle parole del profeta. E viene presto il tempo in cui i giusti dovranno essere condotti come vitelli dalla stalla e il santo Israele dovrà regnare in dominio, in forza, in potenza e grande gloria. Egli raduna i suoi figlioli dai quattro canti della terra e conta le sue pecore ed esse le conoscono. E vi sarà un solo greggio e un solo pastore ed egli pascerà le sue pecore e in lui esse troveranno pastura. E per la rettitudine del suo popolo Satana non ha nessun potere, pertanto non può essere sciolto per lo spazio di molti anni, poiché non ha nessun potere sui cuori del popolo, poiché essi dimorano in rettitudine e il santo Israele regna. Ed ora, ecco, io nefi, vi dico che tutte queste cose debbono venire secondo la carne. Ma ecco, tutte le nazioni, tribù, lingue e popoli dimorano in sicurezza nel santo Israele, si accadrà che si pentiranno. Ed ora io, nefi, termino perché non oso parlare oltre per ora riguardo queste cose. Pertanto, fratelli miei, io vorrei che voi consideraste che le cose che sono state scritte sulle tavole di Bronson sono veritiere, ed essi attestano che l'uomo deve essere obbediente ai comandamenti di Dio. Pertanto, non dovete supporre che io e mio padre siamo i soli ad averli attestati e anche insegnati. Pertanto, se sarete obbediente ai comandamenti e perseverete fino alla fine, sarete salvati all'ultimo giorno. E così è. Amen. Il secondo libro di Nefi Racconto della morte di lei I fratelli Nefi si ribellano contro di lui Il Signore avverte Nefi di partire per il deserto Suoi viaggi nel deserto e così via Capitolo 1 Ed ora avvenne che dopo che io Nefi ebbi cessato di istruire i miei fratelli anche il nostro padre lei disse loro molte cose e ripetè loro quali grandi cose il Signore aveva fatto per loro nel portarli fuori dalla terra di Gerusalemme E parlò loro riguardo alla loro ribellione sulle acque e alla misericordia di Dio nel risparmiare loro la vita cosicché non erano stati inghiottiti dal mare Ed egli parlò loro anche riguardo alla terra di promessa che essi avevano ottenuto come il Signore era stato misericordioso nell'avvertirci di fuggire dalla terra di Gerusalemme Poiché ecco disse egli ho avuto una visione dalla quale so che Gerusalemme è distrutta e se fossimo rimasti a Gerusalemme saremmo periti pure noi Ma disse egli nonostante le nostre afflizioni abbiamo ottenuto una terra di promessa una terra che è scelta sopra tutte le altre terre una terra che il Signore Dio ha convenuto con me che sarebbe stata una terra per le realità alla mia posterità Sì il Signore ha dato per alleanza questa terra a me e ai miei figlioli per sempre e anche a tutti coloro che sarebbero stati condotti fuori da altre nazioni dalla mano del Signore Pertanto io lei profetizzo secondo l'influsso dello Spirito che nessuno verrà in questa terra salvo che vi siano portati dalla mano del Signore Pertanto questa terra è consacrata a colui che egli vi porterà e se accadrà che essi lo serviranno secondo i comandamenti che egli ha dato sarà per loro una terra di libertà Pertanto non saranno mai ridotti in schiavitù se ciò avverrà sarà a causa dell'iniquità poiché se l'iniquità abbonderà il paese sarà maledetto a causa loro ma per i giusti esso sarà benedetto per sempre Ed ecco è saggio che questa terra sia tenuta per ora celata alla conoscenza di altre nazioni poiché ecco molte nazioni invaderanno il paese cosicché non vi sarebbe più posto per una verità Pertanto io lei ho ottenuto una promessa che in quanto che coloro che il Signore Dio porterà fuori dalla terra di Gerusalemme obbediranno ai suoi comandamenti essi prospereranno sulla faccia di questa terra e saranno tenuti celati a tutte le altre nazioni affinché possano possedere questa terra per loro stessi e a sé accadrà che obbediranno ai suoi comandamenti saranno benedetti sulla faccia di questa terra e non vi sarà nessuno a molestarli né a togliere loro la terra della loro verità ed essi vi dimoreranno per sempre in sicurezza ma ecco quando verrà il tempo in cui essi degenereranno nell'increduità dopo aver ricevuto così grandi benedizioni dalla mano del Signore avendo conoscenza della creazione della terra e di tutti gli uomini conoscendo le grandi e meravigliose opere del Signore fin dalla creazione del mondo essendo stato dato loro il potere di compiere ogni cosa mediante la fede avendo tutti i comandamenti fin dal principio ed essendo stati portati dalla sua bontà infinita in questa preziosa terra di promessa ecco io dico se verrà il giorno in cui essi rigetteranno il Santo di Israele il vero Messia loro Redentore e loro Dio ecco i giudizi di colui che è giusto saranno su di loro sì e gli porterà altre nazioni fino a loro e darà ad esse potere e toglierà loro a terra dei loro possedimenti e farà sì che essi siano dispersi e castigati sì col passare da una generazione all'altra vi saranno fra loro spargimenti di sangue e grandi calamità pertanto fii miei vorrei che vi ricordasse sì vorrei che voi desse ascolto alle mie parole o se vi svegliaste svegliatevi da un sonno profondo sì dal sonno dell'inferno e scuotetevi di dosso le orribili catene da cui siete legati che sono le catene che legano il figliore degli uomini cosicché sono trascinati i schiavi giù nell'eterno abisso di infelicità e di sventura svegliatevi alzatevi dalla povere e udite le parole di un genitore tremante le cui membra dovrete presto mettere a giacere nella fredda e silenziosa tomba da dove nessun viaggiatore può tornare ancora pochi giorni e io andrò per la via di tutto il mondo ma ecco il Signore ha redento la mia anima dall'inferno ho contemplato la sua gloria e sono eternamente circondato dalle braccia del suo amore e desidero che vi ricordiate di osservare gli statuti e i giudizi del Signore ecco questa è stata l'ansietà della mia anima fin dal principio il mio cuore è stato oppresso dal dolore di tanto in tanto poiché ho temuto che il Signore vostro Dio per la durezza dei vostri cuori uscisse contro di voi nella pienezza della sua ira per riuscidervi e distruggervi per sempre oppure che una maledizione ricadesse su di voi per lo spazio di molte generazioni e che foste visitati dalla spada e dalla carestia che foste odiati e foste condotti secondo la volontà e la schiavitù del diavolo o figli miei che queste cose possano non venire su di voi ma che possiate essere un popolo scelto e favorito dal Signore ma ecco sia fatta la sua volontà poiché le sue vie sono rettitudine per sempre ed egli ha detto in quanto che obbedirete ai miei comandamenti prospererete nel paese ma in quanto che non obbedirete ai miei comandamenti sarete recisi dalla mia presenza ed ora affinché la mia anima possa avere gioia in voi e affinché il mio cuore possa lasciare questo mondo in letizia per ragione vostra affinché io non sia calato nella tomba in tristezza e dolore alzatevi dalla polvere figli miei e siate uomini e siate decisi con una sola mente e un solo cuore uniti in tutte le cose per non essere ridotti in schiavitù affinché non siate maledetti d'un grave maledizione e anche affinché non incorriate nella disapprovazione di un Dio giusto su di voi fino alla distruzione sì la distruzione eterna sia dell'anima che del corpo svegliatevi figli miei indossate l'armatura della rettitudine scuotetevi di dosso le catene con le quali siete legati e uscite fuori dall'oscurità e alzatevi dalla polvere non ribellatevi più contro vostro fratello le cui visioni sono state gloriose e che ha obbedito ai comandamenti fin dal tempo in cui lasciamo Gerusalemme e che è stato uno strumento nelle mani di Dio per portarci nella terra di promessa poiché se non fosse stato per lui avremmo dovuto perire di fame nell'eserto non di meno avete cercato di togliere la vita sì ed egli ha sofferto molto dolore a causa vostra e io temo grandemente e tremo a causa vostra che egli non abbia di nuovo a soffrire poiché ecco lo avete accusato di aver cercato potere e autorità su di voi ma io so che non ha cercato potere né autorità su di voi ma ha cercato la gloria di Dio e il vostro benessere eterno e voi avete mormorato perché egli è stato chiaro con voi voi dite che ha usato severità voi dite che si è adirato con voi ma ecco la sua severità era la severità del potere della parola di Dio che era in lui e ciò che voi chiamate ira era la verità secondo quella verità che è in Dio che egli non poteva trattenere denunciando coraggiosamente la vostra iniquità ed è necessario che il potere di Dio sia con lui sì che egli li comandi e voi dobbiate obbedire ma ecco non era lui ma era lo spirito del Signore che era in lui che gli apriva la bocca per parlare cosicché egli non poteva tacere ed ora Laman figlio mio e voi pure Lamuele e Sam e voi pure figli miei che siete figli di Ismael ecco se darete ascolto la voce di Nefi voi non perirete e se gli darete ascolto vi lascio una benedizione sì anzi la mia prima benedizione ma se non gli darete ascolto vi tolgo la mia prima benedizione sì proprio la mia benedizione ed essa si poserà su di lui ed ora Zorm parlo a te ecco tu sei il servo di Labane non di meno tu sei stato condotto fuori dalla terra di Gerusalemme e io so che tu sarai per sempre un vero amico per mio figlio Nefi pertanto poiché sei stato fedele la tua posterità sarà benedetta insieme con la sua posterità affinché essi vi morino a lungo in prosperità sulla faccia di questa terra e a meno che tra loro non vi sia iniquità nulla potrà guastare o turbare la loro prosperità sulla faccia di questa terra per sempre pertanto se obbedirete ai comandamenti del Signore e il Signore ha consegato questa terra per la sicurezza della tua posterità con la posterità di mio figlio 2 Nefi capitolo 2 ed ora Giacobbe io parlo a te tu sei il mio primo genito nei giorni della mia tribolazione nel deserto ed ecco nella tua infanzia hai sofferto afflizioni e molto dolore a causa della durezza dei tuoi fratelli non di meno Giacobbe mio primo genito nell'eserto tu conosci la grandezza di Dio ed egli consegherà le tue afflizioni per il tuo profitto pertanto la tua anima sarà benedetta e tu dimorrerai in sicurezza con tuo fratello Nefi e i tuoi giorni saranno spesi al servizio del tuo Dio pertanto io so che tu sei redento per la giustizia del tuo redentore poiché hai visto che egli verrà nella pienezza del tempo per portare la salvezza agli uomini e tu hai visto la sua gloria nella tua giovinezza pertanto tu sei benedetto al pari di coloro che presso i quali egli svolgerà il suo ministero nella carne poiché lo spirito è lo stesso ieri oggi e per sempre e la via è preparata fin dalla cauta dell'uomo e la salvezza è gratuita e i uomini sono istruiti sufficientemente per distinguere il bene dal male e la legge è data ai uomini e nessuna carne è giustificata dalla legge ovvero a causa della legge i uomini sono recisi sì mediante la legge temporale essi fono recisi e anche mediante la legge spirituale essi periscono per tutto ciò che è buono e diventano infelici per sempre pertanto la redenzione viene nel santo messia e tramite lui poiché ei è pieno di grazia e di verità ecco ei offre se stesso quale sacrificio per il peccato per rispondere ai fini della legge per tutti coloro che hanno un cuore spezzato e uno spirito contrito e per nessun altro è possibile rispondere ai fini della legge pertanto quanto è importante per conoscere queste cose agli abitanti della terra affinché possano sapere che non c'è nessuna carne che possa dimorare alla presenza di Dio se non tramite i meriti e la misericordia e la grazia del santo messia che depone la sua vita secondo la carne e la riprende per il potere dello spirito perché egli possa far avverare la risurrezione dei morti essendo il primo a dover risuscitare pertanto egli è la primizia per Dio in quanto che farà intercessione per tutti i figlioli degli uomini e coloro che credono in lui staranno salvati e a motivo dell'intercessione per tutti gli uomini vengono a Dio pertanto essi stanno alla sua presenza per essere giudicati da lui secondo la verità e la santità che sono in lui pertanto i fini della legge che il santo ha dato per infliggere la punizione che è prescritta la quale punizione che è prescritta è in opposizione a quella prescritta che è prescritta rispondono ai fini dell'espiazione poiché è necessario che ci sia un'opposizione in tutte le cose se non fosse così il mio primo genito nel deserto non potrebbe realizzarsi a rettitudine né la malvagità né la santità né l'inficità né il bene né il male pertanto tutte le cose devono necessariamente essere un solo insieme pertanto se fosse un unico corpo dovrebbe necessariamente rimanere come morto non avendo né vita né morte né corruzione né incorruttibilità né felicità né infelicità né sensibilità né insensibilità pertanto esso sarebbe stato inevitabilmente creato per nulla pertanto non vi sarebbe stato alcuno scopo nel fine della sua creazione pertanto ciò avrebbe necessariamente distrutto la saggezza di Dio e i suoi eterni proposti e anche il potere la misericordia e la giustizia di Dio e se direte che non vi è legge direte anche che non vi è peccato e se direte che non vi è peccato direte pure che non vi è rettitudine e se non ci fosse rettitudine non ci sarebbe precità e se non ci fosse rettitudine né precità non vi sarebbero punizione né infelicità e se queste cose non esistono Dio non esiste e se non esiste Dio non esistiamo noi nella terra poiché non vi sarebbe potuta essere alcuna creazione di queste cose né per agire né per subire pertanto tutte le cose avrebbero dovuto svanire ed ora figli miei vi dico tutte queste cose per vostro profitto e istruzione poiché esiste un Dio ed è ha creato tutte le cose sia i cieli che la terra e ogni cosa che è in essi sia cose per agire che cose per subire e per portare a complimento i suoi scopi eterni riguardo al fine dell'uomo dopo che egli ebbe creato i nostri primi genitori e le bestie campi e gli uccelli e l'aria e infine tutte le cose che sono create era necessario che vi fosse un'opposizione proprio il frutto proibito in opposizione all'albero della vita l'uno dolce e l'altro amaro pertanto il Signore Dio concesse all'uomo di agire da sé pertanto l'uomo non avrebbe potuto agire da sé a meno che non fosse attirato o dall'uno o dall'altro e io lei debbo necessariamente supporre secondo quanto ho letto che un angelo di Dio secondo ciò che è scritto sia caduto dal cielo pertanto il Signore Dio concesse all'uomo di agire da sé pertanto l'uomo non avrebbe potuto agire da sé a meno che non fosse attirato o dall'uno o dall'altro e io lei debbo necessariamente supporre secondo quanto ho letto che un angelo di Dio secondo ciò che è scritto sia caduto dal cielo pertanto divenne un diavolo avendo cercato ciò che era male al cospetto di Dio e poiché era caduto dal cielo ed era diventato infelice per sempre e il creò di rendere cercò di rendere infelice anche tutta l'umanità pertanto disse a Eva si proprio in quel vecchio serpente che è il diavolo che è il padre di tutte le menzogne pertanto gli disse mangiate del frutto proibito e non morrete ma sarete come Dio conoscendo il bene e il male e dopo che Adamo ed Eva ebbero mangiato il frutto proibito furono scacciati dal giardino di Eder per lavorare la terra ed essi hanno generato dei figlioli figli proprio la famiglia di tutta la terra e i giorni dei figlioli e degli uomini furono prolungati secondo la volontà di Dio affinché potessero pentirsi mentre erano nella carne pertanto il loro stato divenne uno stato di prova e il loro tempo fu prolungato secondo i comandamenti che il Signore Dio diede figlioli degli uomini poiché egli diede il comandamento che tutti gli uomini devono pentirsi poiché mostrò tutti gli uomini che essi erano perduti a causa della trasgressione dei loro genitori ed ora ecco se Adamo non avesse trasgredito non sarebbe caduto ma sarebbe rimasto nel giardino di Eden e tutte le cose che erano state create avrebbero dovuto rimanere rimanere nello stesso stato in cui erano dopo essere state create e avrebbero dovuto rimanere per sempre e non avere fine ed essi non avrebbero avuto figlioli pertanto sarebbe rimasti uno stato di innocenza senza provare gioia poiché non conoscevano l'intricità senza fare il bene poiché non conoscevano il peccato ma ecco tutte le cose sono state fatte secondo la saggezza di colui che conosce tutte le cose Adamo cadde affinché gli uomini potessero essere e gli uomini sono affinché possano trovare gioia e il Messia verrà nella pienezza del tempo per poter redimere i figlioli degli uomini dalla caduta e poiché sono stati redenti dalla caduta essi sono diventati per sempre liberi distinguendo il bene dal male per agire da sé e non per subito se non la punizione della legge nel grande e ultimo giorno secondo i comandamenti che Dio ha dato pertanto i uomini sono liberi secondo la carne e sono date loro tutte le cose che sono opportune per l'uomo e sono liberi di scegliere la libertà e la vita eterna tramite il grande mediatore di tutti i uomini o di seguire e scegliere la schiavitù e la morte secondo la schiavitù è il potere del diavolo poiché egli cerca di rendere tutti gli uomini infelici come lui ed ora figli miei vorrei che guardasse al grande mediatore e desse ascolto ai suoi grandi comandamenti e foste fedeli alle sue parole e sceglieste la vita eterna secondo la volontà del suo santo spirito e che non sceglieste la morte eterna secondo la volontà della carne e del male che è in essa che dà allo spirito del diavolo il potere di farvi schiavi e di trascinarvi giù in inferno per poter governare su di voi nel suo regno e ho detto queste poche parole a voi tutti figli miei negli ultimi giorni della mia prova e ho scelto la parte buona secondo le parole del profeta e non ho altro intento se non il benessere eterno delle vostre anime Amen